. Nicolò Brigante tronista di Uomini e Donne, età, altezza, lavoro Nicolò Brigante, età, altezza, lavoro del nuovo tronista di Uomini e Donne. . Dopo la scelta di Mattia Marciano e Alex Migliorini, Nicolò Brigante è il nuovo tronista di Uomini e Donne, insieme a Paolo Crivellin, Sabrina Ghiò, Nilu Faradati e Sara Affifella. . Nicolò è nato nel 1994, ha 23 anni ed è alto 185 centimetri. . Nella vita è un piccolo imprenditore che promuove le eccellenze siciliane in giro per il web. . Il tronista, infatti, è siciliano e, da buon sicolo, è innamorato della sua terra, tanto che nel video di presentazione ha dichiarato che il sole e il mare, per lui, sono vita. . . Altro suo amore, però, si chiama René ed è la sua cagnolina. . . Si definisce un ragazzo solare e determinato, con degli obiettivi ben precisi. . . Brigante vuole costruirsi una famiglia serena e avere un lavoro che gli dia grandi soddisfazioni. . Davanti alle telecamere, però, è imbarazzato e si sente molto insicuro. . . Nicolò confessa di sentirsi incapace davanti alle telecamere, perché lo mettono in agitazione. . Si è trovato in questa situazione fin dal primo provino con Maria De Filippi. . . Arrivato completamente in palla, dopo la salivazione a zero e un minuto di silenzio, la conduttrice è riuscita a metterlo a suo agio e a farlo parlare. . Nonostante ciò, teme molto questa nuova esperienza. . Di quest'ultima non aveva avvisato la sua famiglia, che è la cosa più bella che ha. . Ha sempre sognato una famiglia unita, dove regnassero amore e armonia, e questo ha avuto. . Il nuovo tronista ha un papà e una mamma con i quali ha un rapporto limpido lui si confida con loro e loro con lui e una sorella. . Nicolò brigante ha uomini e donne per trovare l'amore. . Nicolò partecipa a uomini e donne per trovare il vero amore. . Cerca una ragazza affettuosa e determinata, che non debba completarlo perché sta già bene con se stesso, ma che sappia dargli un valore aggiunto. . . . . . .